Presidente Fava, oggi la presentazione del rapporto annuale dell'Inps, tante indicazioni confortanti anche per la campagna, il sistema è in equilibrio ma si può fare ancora di più facendo crescere la base occupazionale. Certamente, questo è il focus principale del mio mandato, ma comunque condiviso con tutta la struttura, se vogliamo arrivare a questa, anzi migliorare la sostenibilità e l'equilibrio dell'Istituto che è in equilibrio, quindi non ci sono preoccupazioni di sorte in tal senso, dobbiamo senz'altro andare a colpire l'aumento della base occupazionale, quindi intercettare i giovani, ingaggiarli, fare in modo che inizino ad aprire il loro strato conto contributivo e possano pensare e credere nel loro futuro professionale, di crescita professionale e personale. Su questo noi ci siamo, li aiuteremo, aiuteremo anche le imprese, ma nei limiti in cui queste assumeranno e daranno migliori stipendi. Ha parlato anche di un dialogo avviato con il Sindaco di Napoli, con il Governatore De Luca, che cosa si può fare per la campagna? Certamente, con il Sindaco e il Governatore siamo già d'intesa che apriremo concretamente, pragmaticamente questa progettualità proprio qui a Napoli, intervendo sui giovani in volta tale da creare sana occupazione, dare un servizio in modo tale che si dia un servizio efficace, produttivo alle imprese e questo avrà come cascato un effetto virtuoso a nostro favore, maggiori contribuenti, maggiori contributi e quindi andremo verso un sistema pensionistico ancor più sostenibile.